Bella a tutti asfaltoni, benvenuti sulle youtube, eccoci in questo video per andare a vedere la novità di oggi nell'evento speciale, l'evento Grand Prix Bugatti EB110 andiamo subito a vedere i premi il solito meccanismo del Grand Prix, quindi con in palio le chiavi, come sempre livello 1, 1% 5 chiavi per i primi 5, livello 2 fino al 10%, 4 chiavi in palio livello 3, 3 chiavi in palio siamo qui nel 25%, livello 4 arriviamo al 75% con in palio 2 chiavi e l'ultimo, diciamo tra virgolette il livello fino agli ultimi 100, una chiave in palio quindi davvero difficile trovare qualcuno più debole di noi, è molto facile trovare qualcuno più bravo e c'è solo una chiave in palio, quindi indubbiamente saranno stati messi i pacchetti della Bugatti EB110 andiamo un po' a vedere no, non sono ancora stati messi, perfetto quindi torniamo al nostro Gran Premio e andiamo a vedere come sempre i requisiti di qualifica di prendere le prequalifiche, quindi allenamento un giorno per poter fare l'allenamento andiamo a prendere basta 3 salti per 3 volte per riuscire ad entrare nelle Q1 poi subito col tempo di 1,24 pacchetti della Bugatti EB110 20 gettoni, poi andiamo più avanti una volta che saremo qualificati nelle Q1, quindi appena sbloccheremo i 3 requisiti avremo la possibilità di andare a prendere anche questi altri premi battendo il tempo di 1,20 infatti andremo a prendere altri 20 gettoni e altri 2 pacchetti della EB110 perfetto e no, aspetta, continuiamo a guardare perché poi una volta qualificati quindi una volta vinte le qualifiche sbloccheremo anche questi altri premi battendo il tempo di 1,17 altri 20 gettoni 2 pacchetti dove poter trovare i premi i premi con i progetti della Bugatti e 5 progetti Bugatti EB110 quindi già un bel po' e andiamo subito a fare l'allenamento e non forziamo troppo perché non ci interessa l'importante è fare tre salti ma andiamo a vedere la pista andiamo subito a potenziare l'auto ok, auto potenziata come sempre per i successivi raggruppamenti prendiamo come riferimento il tempo di 1,17 perché è il tempo utile da fare per prendere i 5 progetti che è sempre bene non buttare ok, quindi da 16,17 livello 5 14,15 livello 4 12,13 livello 3 10,11 livello 2 8,9 livello 1 ma vediamo che tempo riusciamo a fare partiamo subito con il touch drive ecco qua la pista Groenlandia attenzione perché possiamo fare la missione finalmente è arrivata la pista di Groenlandia e possiamo fare quindi la missione dell'episodio 3 ok touch drive dobbiamo fare solo tre salti intanto ci rendiamo un pochino conto magari facciamo due sgommate due drift ci rendiamo conto del tempo che ci vuole pista tra l'altro nuova e quindi la pista nuova i tempi sono più alti perché non tutti riescono l'hanno già imparata e quindi conoscendo meno la pista ovviamente è più difficile fare il tempo anche per chi è molto bravo anche se quelli veramente bravi non avranno questi problemi però di sicuro un po' di memoria un po' di conoscenza della pista aiuta molto ok perfetto qui abbiamo fatto zero salti perché dobbiamo prendere per fare i salti dobbiamo prendere ah no invece l'abbiamo fatti ok quindi basta andare tranquilli andiamo a vedere la missione quella della Groenlandia dell'episodio 3 qual era? che al momento non me la ricordo forse era espulsione 360 ovviamente qui non si può fare espulsioni onda nitro ok quindi non possiamo ancora farla però magari c'è un evento nei giornalieri perché abbiamo visto il punto esclamativo dove andremo a guardare se ci sono gli eventi giornalieri ok dobbiamo fare questa routine per altre tre volte oppure potete direttamente battere il tempo di 1.23 per andare a prendere tutti e tre i requisiti con una gara e anche tutti i premi io al momento non ho fretta quindi continuo in questo modo ok eccoci qua raggiunte le tre condizioni vediamo che andiamo a sbloccare tutti gli altri premi eccoli qua e quindi qui se volete potete tranquillamente giocare fare il tempo per andare a prendere i premi qui concludiamo il video ci vediamo domani con il round le qualifiche le Q1 e quindi niente mettete un bel mi piace iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate la campanellina per ricevere le notifiche dei nostri video un saluto a tutti e a domani con un nuovo video ciao a tutti